Mentre gli Stati Uniti ritirano il loro contingente africo, una massiccia controffensiva è stata lanciata dal governo di Unità Nazionale Libico guidato da Fayez al-Serraj. Ribattezzata Vulcano di Rabbia, l'operazione avviene col supporto di Bunyan al-Marsussi, raggruppamento di sigle armate già mobilitato contro lo Stato Islamico. A Tripoli una colonna di 350 mezzi è stata inviata dalle temibili milizie di Misurata, andando a sommarsi alle 100 jeep da guerra arrivate da Zintan. Nel frattempo l'aviazione governativa ha lanciato rei daerei contro le forze di Haftar nella zona dell'aeroporto internazionale nella capitale e sulle retrovie logistiche nel Fezzan. I membri delle forze armate libiche, ha dichiarato un portavoce dell'aviazione, assicurano ai loro leader e a tutti i libici la loro disponibilità, capacità e determinazione a proteggere la loro capitale e tutte le amate città della Libia. Secondo molti analisti, l'operazione del generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che dopo la sanguinosa conquista di Benghazi si è installato nel Fezzan alleandosi alle tribù locali, potrebbe trasformarsi in un boomerang diplomatico. Sostenuta da Egitto, Emirati e Arabia Saudita, la sua azione sembra aver messo in imbarazzo gli alleati francesi, che il premier Al-Serraj accusa ora di complicità. Nel frattempo gli uomini di Haftar hanno annunciato di aver raggiunto la periferia meridionale di Tripoli, una circostanza seccamente smentita dai comandi militari della capitale. Con l'aggravarsi del conflitto, gli Stati Uniti hanno evacuato tutto il personale diplomatico, scortato via mare dai soldati Africom. E mentre continuano a cadere nel vuoto gli appelli delle Nazioni Unite per una ripresa del dialogo e una sospensione delle ostilità, scuole e uffici rimarranno chiusi per almeno sette giorni a Tripoli, dove le scorte alimentari cominciano a scarseggiare nei supermercati. Il paese sembra davvero sull'orlo di una nuova guerra civile, che potrebbe non finire molto presto. Grazie a tutti.